Vai, allora salve buonasera, Andrea Simoncini, Catania, stasera partita facilissima, Catania 8, Palermo 2, com'è andata Andrea? Beh la partita è stata tutto sommato abbastanza impegnativa, nonostante il risultato abbiamo dato un massimo tutti quanti, a proposito come anche il nostro capitano Cristiano Bellisci ha avuto fargli un saluto perché ha avuto un problema, parte in basso diciamo. Beh salutiamo Cristiano e lo aspettiamo ovviamente per la fine di questo campionato, siete lì anche voi i primi in classifica, quindi vi giocate le ultime due giornate lo scudetto? Faremo il possibile per portare a casa questo scudetto, per noi è una cosa importante. Allora in bocca al lupo, Andrea e tutto il Catania e ci vediamo alla prossima e grazie, solo passione!